Si è parlato anche di Real World Evidence qui a Moliano Veneto per la settima edizione del seminario e noi facciamo il punto su questo tema così attuale col professor Armando Gennazzani. Professor Gennazzani, perché questo rinnovato interesse per gli studi di Real World Evidence? Anche qui a Moliano se ne è parlato tantissimo. Ma credo vi siano varie motivazioni. La prima è che perché il mondo sta cambiando stiamo generando meno evidenze al momento della registrazione e quindi abbiamo bisogno di accumulare evidenze ulteriori per accertarci dell'efficacia e sicurezza dei medicinali. La seconda motivazione è perché questi dati che generiamo durante la registrazione hanno spesso delle incertezze e queste incertezze possono essere e devono essere mitigate con la raccolta dati per vedere esattamente come funzionano i farmaci nella vita reale. La terza motivazione è anche una questione finanziaria in cui uno può anche bilanciare le incertezze con le incertezze scientifiche e con le incertezze economiche, anche se questo non è necessariamente prioritario. Gli studi di Real World Evidence hanno tanti pregi, che lei ci ha spiegato in maniera sintetica, ma hanno anche delle criticità legate al modo con cui vengono raccolti questi dati. Criticità intendo dal punto di vista regolatorio. Sono state oramai tutte risolte o ne rimane ancora qualcuna da affrontare? Rimangono moltissime criticità da risolgere. La prima cosa sono metodologiche. Stiamo migliorando, stanno diventando più solidi i dati di Real World Evidence che possono essere girati dai Real World Data, però richiedono ancora una concertazione su cosa è una vera evidenza e cosa è solo un'osservazione. La seconda problematica che vale per il nostro paese, direi in particolare, ma altri paesi hanno stessi problemi, riguarda l'utilizzo di questi dati con la privacy, quando un dato è anonimo, quando un dato è rintracciabile e come fare in maniera di non perdere tutti questi dati che noi abbiamo e contestamente garantire la privacy dei pazienti. La terza problematica che noi affrontiamo è che i registri e i dati amministrativi e i dati di patologia sono tanti, non abbiamo una totale mappatura di quali siano e soprattutto non c'è una interoperabilità di queste banche dati. E quindi so già che ci sono già dei discorsi a livello ministeriale per creare l'interoperabilità che sarebbe favorente non solo la ricerca scientifica, non solo il mondo del farmaco, ma proprio aumenterebbe la salute dei cittadini per poter avere questa interoperabilità. Certamente. Senta, quando servono questi dati? Cioè ovvero solo quando il farmaco è stato registrato per approfondire certi aspetti che dagli studi randomizzati e controllati non sono emersi oppure possono anche servire per la registrazione, per esempio non sono il caso delle malattie rare dove è così difficile raccogliere una significativa numerosità di pazienti? Le evidenze servono sempre. Anche senza farmaco, mettiamo abbiamo una serie di patologie rare, abbiamo più di 8000 patologie rare, molte di quali non sappiamo niente. Cominciamo a interessarci a queste malattie quando un'azienda dice che sta registrando un farmaco, però non abbiamo casistiche su storia naturale, quindi sarebbe importantissimo raccoglierle anche prima della registrazione, magari creando anche delle partnership pubblico-privato per mettere a disposizione questi dati per poter sviluppare meglio un farmaco. Molto interessante. Voltiamo pagina, siamo qui a Mogliano Veneto, è la settima edizione, le chiederei un commento su questo incontro che mette a discutere su temi molto concreti, le istituzioni, il mondo dell'industria, il mondo dell'accademia che le rappresenta, le associazioni di pazienti. Qual è il suo giudizio su Mogliano? No, Mogliano è un bellissimo evento, lo è sempre stato dalla prima volta, questa idea di mettersi tutti insieme a un tavolo è molto buona, qui abbiamo tutte le istituzioni, ha partecipato il Ministero, ha partecipato l'AIFA, lei si è dimenticato anche la comparto clinico che partecipa, un altro stakeholder importantissimo quando parliamo di Farmers, quindi non può che essere un giudizio positivissimo. Insomma si torna sempre volentieri, Mogliano. Certo. Certo.